ciao a tutti eccoci qui a provare in loss la mia ultima creazione con pale da 6 che in realtà potrebbe montare anche le 7 forse perché queste qua sono le 5 perché non ne ho in casa ma comunque bisogna vedere se vola come può andare tutto stock, PID stock, RATE tutto quanto stock quindi un'avventura le eliche sono anche rovinate e via un po' a, un po' a un po' a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Direi che vuole.